Comittà saluti, pedi di bocata di Onnisi. A fraccata noa del suo comittà o impari posta saluti dei Gresias ha il suo commissario straordinario del Sassle Sette di Carbonia, Antoni Onnisi. In un'annotto sparsinavo a Risera Merì il suo comittà o pedi di Kincitubochi in tipo Managenzia. Oggi è uscippico il suo commissario straordinario a comandavo, obbligavo e fattuvai donna della mutanza con un'autonomia prena e a Busendi del Sallei, Sena per Dio, ottenni il spermissio dei più sopravvai e a Fatteriai e a Icicomentinar a Sallei regionali 10 del suo 2006. E non l'unarà su uno suscetti, declara il suo comittà o l'unarà su assessori regionali del suo sanità di po' buca dei suoi dirigitori del suo servizio, Marcello Di Dore, con un'annotto dei subinti di aprile 2006. S'annotto ha ricordato il suo commissario che debita a rispettare i Sallei e da debita a cabaida e vai tra mutanze a se ne spedituse e spermissi che ha bisogno. Il suo commissario Antonio Onnisi ha riconosciato il suo avvarto in rispetto del Sallei del suo 2006 e poi se già tra ballendi può parigiare i ganto debiti e poi si buona norma. Cronaca del suo sulcisi Fogu nottesta in suo campo di Sizinga russena permissu in località di Sirai, in Carbonia. Una barracca imperata come intadomo, occupata di una famiglia, però usbodi a Sora, manna a unos 15 metro quadrauso e sta cabata in Cinisiu. Su voga comenzavo a tenne i vacciori ed esci del suo primo notti. In suo logo due vianti vigilisi del suo vogo e scarabinerisi del Carbonia. I pompieri santi traballavano Brudeo Noramondi studiare il suo vogo e poi in segurità di questa zona e scabulli danno peuso. I militari santi comenzavo sul spriccolo, però un'aranta che in suo logo non aggattavano il rastro su desfroso. Scola, professori Sardus ha una banda. Professori Sardus unibaligiasi su un concorso nazionale voinsinnantisi. I sproas aglianta comenzai uscì da Chilompinti, pomeda Deissuso, da Saffaint in su Lazio e in a terra regionisi d'Italia. San Regioni decidide entra in chistioni, inviando una littera su ministro delle istruzioni pubbliche, Stefania Giannini, firmata del sassessore a competenti, Claudia Virino. Intento, permiti ai maistus Sardus di Acarais Proasa in sa scola e soru. Su concorso voins professorisi, arrisga adesso un'altra vostra una banda, sprica sa rappresentanti del sassessore a Pigliaro. I maistus desi isola non depinti e non fai dagli usobrigai, aggastugraisi po' biagis e toccata di usponni in matessi condizioni si dei scollegas a terra manna. Una littera che va in un resumine di essa mutria dei zinsinnantisi, che può circa i firmesi in suo traballo depinti picai un apparecchio o una navi. I dati sa dei sproasa di su concorso voosso personali di questa scola, funtacostendisi e su calendario buoni biagisi in a terra regioni carose e incompatibili si vina sa e poi orariuse e bolidus. Sa soluzioni, secondo Claudia Virino, è che i sproas si fazzanti in Sardinia. In maniera informatizzata, se che funti impreata, se voi sproasa, permette intitivare i gusti mudongi con una vaina sinzilla nella sassessora e tocca a fina sa teni in conto il suo calendario del suo vago tempo sulla SAU, intre una prova e sattera, può permette a scandidare su dei bigai parti a tutti i esamini si ha iscrivuto a Sentauso. Sa topo è già in consiglio regionale con un interrogato ad essa assessora Virino a sa rappresentanti del suo partito comunista Lisandro Unali. Sa dia e dessa Sardinia sa dia e dessa Sardinia è una geronata di affesso che si istituì al suo consiglio regionale dell'isola può ricordare il suo volotto del 28 di abri del 1794 quando il sardo si chiede in una brusa autonomia rispetto a questi scedas a questa classe di dirigitori locali a San Refuto d'Orao si vorrianta e ci vogliono ad essa isola su vicerrei e a funzionare il sabato Nara Gigi ripedianta totus in sora di Savolotto e Nodio che spiemontesi sono rinascita sa respusta e soru decidida possa abogare a derretta. Se il Santo Giovanni Suergio vesta desi innesto sa contesi dall'ompia sa adeguato redizioni si davanti su primo del suo mese maio in sagri turismo all'asi in Santo Giovanni suergio e parzio in scuta sa differentesi su men giano come in Santano Iorasa con i innesto su e i differenti manerasa del buono in pratica secondo Samatta a Sighiddo Iadai su branche sociali con pezze brevei e prodotto del suo logo a Mericedo una dibattata politica con su resumini dei faina compri del suo partito a manca ecologia e libertà di in un dottato ministrata e con una carata oberta il cittadino che servono di un programma che si ha bisogno di questa bidda in tres cumbida su partito socialista italiano allia in selezione amministrativa sin ben entisi Luca pizzutto coordinatore regionali del ZEL e Matteo Zesto coordinatore federali una contestida concordata grazie al vai da telefonai a suo numero 349 25 751